Ok, mi sto dirigendo alla Oscorp Tower Bene, ci vediamo lì Buonasera e benvenuti in questo nuovo video, io sono Super Ed oggi ragazzi dobbiamo ritornare alla Oscorp Tower per distruggere il simbionte Quindi secondo me qui il simbionte si attaccherà ad R Diventerà a sto punto Venom Lo sapevo Finalmente lo hai tolto Ma lo prende lui Mio eroe Harry Dobbiamo distruggerlo È troppo pericoloso Anche tu finiresti per perderti Come è successo a me Pete Ti prego Devi ascoltarmi Connors dice che è Io ti ho salvato la vita E non puoi salvare la mia Vuoi che io muoia Lo sapevo ragazzi Quindi è lui quello dei trailer Vero? Eh sì, è lui La mano che si vede nei trailer Erri, cosa? Eccolo qua No Non fargli male Niente armi letali Basta E glielo togliate di dosso Me l'hanno spoilerato I tizzi di TikTok Cioè ragazzi mi hanno spoilerato Che Venom si può usare Peccato Solo c'è un problema Norman In questo momento Harry odia Bello Ragazzi ma è fortissimo Io spero si mangi qualcuno Venom se non mangia qualcuno Non è Venom Spera nel nico Tipo Hulk E' come Norman Lui distrugge tutto Uh questo è The trailer Che raga sta distruggendo tutto Oh se l'ha mangiato Oh se l'ha mangiato Ti prego Te lo mangia Eh no però Grazie a tutti Grazie a tutti Ah questa è la scena dei vei Oh se l'ha mangiato No vabbè raga Ho fatto una mossa Li ho uccisi tutti Graven La sua ultima battaglia Mi sa Quindi scontro con Graven No raga c'è troppo Finalmente Tu Sei stato tu A separarci Eh già Eccellente Eccellente A lungo Ho sognato la morte Perfetta Un trionfo di sangue E fiamme Sarai tu a concedermelo Hai rovinato tutto Ferito i nostri amici Sì ragazzi Sì ragazzi Ma vabbè non metto Troppo corte Per Graven Sì Che sia la mia caccia finale La fine di tutto Quanto sei veloce La lingua Tu sarai la mia Ultima caccia E io La tua prima Speriamo al mondo Una morte ideale Eh sì Lui ragazzi Fu da morire Vuole una morte degna Sai cosa si prova A essere traditi Dal proprio corpo Non cederò Alla debolezza Se devo morire Morirò Roccenda Perché lui ragazzi È malato Quindi Sta per morire E preferisce morire così Comunque devo dire Che sono morti Tanti personaggi In questo Spider-Man 2 Te l'hai mangiato E finalmente ragazzi Vediamo un po' di sangue In un protosto Marvel Allora qui Non è tanto bello Venom Mamma Mamma Io non Che cosa ho fatto Tranquillo tesoro Hai finalmente il potere Di fare ciò che hai sempre desiderato Noi correremo Il mondo Come Lascia che dirò mostri No vi immaginate Trasforma la città In simbionti Comunque 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 Nel trailer Non era così Questa schermata Noi correremo Tutti Veramente Tutto il mondo Dobbiamo parlare Questa storia È una follia Ma che gli prende a Pete Non sei giunti Ecco Noi